Prima di tutto faccio i complimenti a chi ha fatto questo scoop, ovviamente nulla di nuovo, se non per il fatto che anche chi non vota il PD deve preoccuparsi di questi episodi alle primarie del PD, perché se c'è uno che dà soldi in cambio di voti alle primarie, dobbiamo chiederci quello che dà soldi, cosa vuole in cambio? Forse vuole un appalto per l'asilo dei nostri figli, forse vuole un posto nell'ospedale dove ricoverano nostro padre o nostra madre, noi ci dobbiamo preoccupare di questo, perché questi episodi, al di là del fatto specifico che sappiamo che le primarie del PD sono una farsa da tempo, riguardano tutti noi perché in cambio poi dobbiamo andare a capire queste persone che compiono la compravendita di voti, cosa ottengono in cambio? E ottengono in cambio quasi sicuramente qualcosa sulla nostra pelle. Io lo chiedo agli elettori del PD che immagino quelli che sono andati a votare in buona fede, che sono andati a votare con entusiasmo alle primarie, quanto siano delusi. Ribellatevi, perché qui non è solo una questione del vostro partito, qui è una questione dello Stato democratico così come lo conosciamo. Se il rapporto elettore-eletto si estingue con un euro che viene dato da un loschio individuo fuori ad una sede del PD, dopo quelli che vengono eletti fanno i fatti loro perché non credono di dovere più nulla del rispetto del programma a chi li ha votati. E questo ci preoccupano un poco. Secondo lei, annullate le primarie? Questo lo deciderà il Partito Democratico. Io credo che se ci sono delle primarie in cui si dice votate il candidato che preferite e poi il risultato è falsato da gente che prende la monetina dalla busta e la dà a chi sta entrando all'interno della sede, è chiaro che non sono delle primarie che si sono svolte in maniera corretta.